Radio Evolution il mondo dell'educazione e della formazione online Cari amiche e cari amici di Radio Evolution Ben ritrovate e ben ritrovati nel nostro consueto appuntamento di Volersi Bene Ci troviamo in questa domenica 17 maggio del 2020 per ancora una volta viaggiare nella consapevolezza e nella crescita delle conoscenze che ci aiutano ad affrontare con maggiore equilibrio armonia e serenità il viaggio della vita Da domani si inizierà una nuova fase di vita Speriamo davvero che questa nuova fase non ci porti poi a dover fare dei passi indietro E dunque un po' a tutti noi l'impegno nel rispettare quelle regole che dovrebbero frenare la ripresa del coronavirus Do il benvenuto a tutte le persone che per la prima volta hanno deciso di mettersi in viaggio in questa carovana In questa spiaggia dove si può camminare a piedi nudi Dove possiamo per davvero ascoltare Ascoltare ciò che di più profondo c'è dentro di noi Perché credo davvero che sia importante questo Volersi Bene va in onda ogni domenica sera alle ore 21 e in replica il lunedì successivo in questo caso il 18 di maggio alle ore 9 e alle ore 22 Dopodiché questa trasmissione sarà pubblicata sul sito di Radio Evolution e potrete riascoltarvela o scaricarvela come preferite Ricordo anche per chi non lo sapesse che ci sono le app per poter ascoltare Radio Evolution sul vostro smartphone, sul vostro tablet e per cui con la grande comodità di non avere qualcosa di ingombrante per poter seguire questa trasmissione E naturalmente come sempre noi siamo qui perché vogliamo dicevamo prima crescere e vogliamo darci la possibilità di diventare delle persone più consapevoli Eccoci allora in questo puntuale appuntamento a parlare del nostro Carl Rogers parlare di questo grande psicologo uno dei principali fondatori della psicologia umanistica di cui già, se vi ricordate, abbiamo accennato ah no, più che accennato abbiamo un po' spiegato la sua biografia in due parole a dire il vero e poi abbiamo incominciato a capire l'impostazione che lui ha dato vorrei in questa seconda puntata dedicata al pensiero di Carl Rogers perché davvero è un fondamento questo personaggio presentandovi ulteriormente la visione e quello che ha proposto che ancora oggi d'altronde viene utilizzato perché è fonte di continua crescita personale Carl Rogers è stato definito un rivoluzionario silenzioso in effetti non è una persona che ha fatto tante polemiche o che si è posto in modo polemico nei confronti anche dei suoi colleghi teniamo conto che è stato osteggiato dai suoi colleghi per l'approccio che aveva creato nel rapporto con il cliente ove per Carl Rogers il cliente non è il cliente che intendiamo noi in termini commerciali ma sarebbe appunto la persona che si rivolge a una persona che chiede aiuto non è un'attività Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infatti, egli, più che focalizzarsi sulla psicopatologia, decise di mettere la sua attenzione sugli elementi che favoriscono la crescita e il benessere dell'essere umano. Pensate che fu il primo ad audio registrare e pubblicare interi colloqui di complete psicoterapie. Questo perché voleva fornire dei dati scientifici verificabili e dunque era anche disposto, cosa che non tutti secondo me sono in grado di fare, di rendersi disponibile a una cosiddetta valutazione pubblica. Per cui di poter anche in qualche modo sottoporsi all'osservazione e alla critica scientifica. E allora lui, tra virgolette, li trovate alcuni di questi filmati dove lui proprio gestisce la relazione con una persona che va da lui. Rogers, allora, fu il primo a incoraggiare negli psicoterapeuti l'acquisizione di una nuova consapevolezza. Cioè che è possibile costruire un setting, così viene chiamato, clinico, dove la realtà dell'altro, cioè della persona che viene, può essere accolta e gestita in termini di crescita. Ecco perché il suo famoso libro, la terapia centrata sul cliente, racconta quello che è stato appunto il suo impianto. Comprendere l'altro è per Carl Rogers il fondamento della terapia. Comprendere l'altro, apprendosi ad esso in modo autentico, con profondo rispetto, Comprendere empaticamente come l'altro costruisce, notate bene, il rapporto con se stesso, con gli altri, con il mondo. E' il principio base della psicoterapia centrata sul cliente. Vorrei in questa trasmissione estrarre quali potrebbero essere per noi che siamo in viaggio e che, diciamo, abbiamo desiderio, altrimenti non ci torneremo qua tutti quanti insieme ogni domenica sera. Stavo dicendo, noi che siamo in viaggio, vorrei estrarre alcune proposizioni di tutto questo suo grande impianto, no? In maniera tale che ci possano aiutare a capire meglio come, a nostra volta, noi possiamo lavorare sia su di noi, perché questi sono spunti davvero per la nostra crescita, ma come potremmo anche lavorare meglio nella relazione con gli altri. Per cui di come potremmo, in qualche modo, anche con gli altri, porci in maniera diversa. Tutto qua. Per cui io, in questa puntata, di volersi bene, che tra virgolette è già la 324esima, per cui siamo arrivati a quota 324 puntate, possiamo cercare di vedere e di capire un attimino come affrontare questa cosa. Se riusciremo a fare questo, avremo un ottimo spunto. Grazie a tutti. La teoria della personalità di Rogers si sviluppa intorno a tre concetti fondamentali. L'organismo, cioè l'individuo, la persona, il campo fenomenico e il sé. Diciamo che su questi tre concetti si costruisce tutta la visione e l'impianto di Carl Rogers. Allora, vediamo un attimino di entrare dentro questi concetti e di, in maniera molto semplice, provare a capire meglio di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto, una delle, diciamo, proposizioni fondamentali di Carl Rogers è che ogni individuo, per cui ognuno di noi, esiste in un mondo continuamente mutevole di esperienze, del quale esso, cioè noi, siamo il centro. Questo termine esperienza, che valore ha per Rogers? Qualsiasi cosa che ci accade in un dato momento della nostra esistenza. Qualsiasi cosa, ripeto, che ci capita in un dato momento della nostra vita. Un insieme, per cui, di eventi che noi possiamo conoscere in un modo completo e genuino con una cosiddetta coscienza di quello che avviene. Per cui l'esperienza rappresenta quel campo dove noi sostanzialmente costruiamo il senso del nostro sé psicologico. E' chiaro che l'esperienza può essere coscientemente vissuta, e allora qui abbiamo la possibilità di lavorarci, come non essere coscientemente svissuta. E dunque qui entriamo nella difficoltà che spesso, e deve così, noi abbiamo, di capire esattamente che cosa ci succede e come stiamo affrontando un determinato evento della vita. Ma per Rogers, chi è il miglior esperto del proprio mondo? E' esattamente la persona stessa. Per cui, se un terapeuta vuole, se un genitore, perché anche un genitore è un terapeuta, se un insegnante che a modo suo può fare da terapeuta, non chiaramente in termini psicologici, ma terapia vuol dire guarigione, perché vuol dire porsi in termini positivi e costruttivi nella vita di un altro essere umano, se allora una persona vuole entrare in contatto con il mondo dell'altro, è importante porsi con un'attitudine di ascolto rispettoso. Per cui, per Rogers, fondamentalmente l'ascolto di che cosa l'altro sta vivendo è fondamentale. Non solo. Un secondo principio di Car Rogers è che la persona reagisce a ciò che gli succede appena lo riconosce. Questo campo percettivo è per l'individuo la realtà, cioè ognuno di noi, come organismo psichico, reagisce agli stimoli esterni, incontri, lavoro, studio, o alle perturbazioni interne, che sono i nostri stati d'animo, le nostre emozioni, il nostro modo di recepire le cose, in modo ovviamente del tutto soggettivo. Cioè, ognuno di noi praticamente ha della realtà una precisa conoscenza, una precisa, come dire, sua interpretazione. Per cui, per Car Rogers, cos'è che è importante? Per Car Rogers è importante capire questo, che lo stimolo esterno o la perturbazione interna non ha un valore in quanto tale, ma in relazione alle esperienze soggettive di chi vive questo. Per cui, due persone che ricevono lo stesso stimolo possono percepire due realtà diverse. Faccio un esempio. Due persone che ricevono una critica o che ricevono un complimento possono reagire in maniera completamente diversa. Per cui, che cosa vuol dire? Che per Car Rogers non basta conoscere la natura degli stimoli a cui una persona è sottoposta. Cioè, non è che lo stimolo determini in automatico un determinato esito. Ma per Car Rogers quello che conta è come viene vissuto quello stimolo. Capite l'importanza di questo passaggio? Questo ha tolto completamente quell'interpretazione troppo rigida che c'era nell'ambito psicologico che per cui, per dire, un determinato trauma doveva produrre automaticamente determinate conseguenze. Non è proprio così. La verità è che nell'essere umano c'è questa capacità elaborativa interna che fa percepire il determinato stimolo anche positivo, eh? Attenzione, non solo negativo. Non pensiamo solo e sempre in termini negativi. Doviamo anche pensare in termini positivi. Ma può essere lo stimolo positivo tradotto magari in termini negativi. E questo è una cosa molto importante perché fa capire come quello che conta è il campo percettivo di ogni essere umano. Un altro importante principio di Carl Rogers che poi naturalmente non è che era solo lui a attenzione però ricordiamo sempre che ci troviamo ancora nel 1940 qua queste cose quando vengono cominciate a essere divulgate siamo proprio agli inizi tant'è che la psicologia umanistica di fatto viene considerata quella dal 1960 in avanti per cui è qui che si sta costruendo un po' il tutto e Rogers giustamente ha una visione olistica dell'essere umano cioè lui rifiuta la psicologia segmentale della persona in favore di un sistema totalizzante organizzato per cui per Carl Rogers l'essere umano va considerato tutto intero nel suo insieme non può essere scisso in parti separate vorrei ricordarvi che uno dei più grandi problemi che noi come esseri umani abbiamo è proprio l'ascissione dell'io uno dei grandi cioè no dei grandi uno dei obiettivi di qualsiasi lavoro psicoterapeutico è l'integrazione delle funzioni dell'io quando le funzioni dell'io non sono integrate tra di loro si genera sempre uno stato di disarmonia interiore perché le funzioni dell'io sono quelle che messe insieme integrate sviluppate messe insieme creano la stabilità la solidità dell'essere sono quelle che danno la sicurezza sono quelle che danno l'operatività e per cui le funzioni dell'io scisse creano sempre purtroppo dei danni più o meno gravi poi dipende ovviamente sempre di quali funzioni stiamo parlando e di come quella persona ha maturato queste funzioni qui ma comunque sia è importante capire questa cosa perché questa cosa è naturalmente uno dei principi base spero di non essere troppo complicato nel dire queste cose l'organismo stiamo sempre ovviamente parlando del suo pensiero ha la famosa tendenza fondamentale di cui se vi ricordate abbiamo parlato nella puntata precedente che è quella di attualizzare per cui il principio dell'attualizzazione è forse uno dei principi più conosciuti e più apprezzati di Carl Rogers per cui cosa vuol dire che l'essere umano si muove verso l'autonomia si muove verso la maturità si muove verso la socializzazione per cui per Carl Rogers c'è dentro l'uomo questa spinta con una spinta proprio interna che è dentro ognuno di noi che ci dice va verso il sole tu sei un girasole per cui vai verso il sole per cui gli ostacoli il disagio il dolore i blocchi le interferenze in realtà non frenano questa tendenza attualizzata la tendenza attualizzata è proprio dentro di noi per cui non è che noi la possiamo bloccare o fermare perché perché fa parte di noi semplicemente perché fa parte di noi solo per questo e siccome fa parte di noi noi non la possiamo bloccare perché è proprio questa spinta interna che ci dice vai dove devi andare da questo punto di vista noi abbiamo per car rogers sempre la possibilità a qualsiasi età aggiungo di progredire per cui quando noi percepiamo questa possibilità di scelta ecco che questa scelta che parlo quello di crescere sarà superiore alla fase regressiva che è quella invece di rimanere fermi a un determinato stadio una determinata situazione tutte queste cose che stiamo dicendo sono molto importanti perché ci fanno comprendere come per car rogers la visione che lui ha dell'essere umano è fondamentalmente una visione di fiducia di ottimismo e di positività il comportamento è fondamentalmente il tentativo diretto a un preciso scopo cioè l'organismo vuole soddisfare le sue esigenze perché è in questo modo che può andare avanti per cui questa cosa ci fa capire come c'è una forza motivante dentro di noi ed è questa forza motivante che noi dobbiamo in qualche modo assecondare e che il terapeuta dovrebbe sostenere nel percorso di guarigione quanto ha da insegnarci davvero il nostro car rogers tantissimo per cui le emozioni forti dovute all'eccitamento come la rabbia per car rogers ci aiutano nella ricerca di che cosa di questo obiettivo di soddisfazione dei nostri bisogni per cui l'eccitazione che è tipica di molte fasi della vita dove noi siamo proprio emozionalmente iper eccitati è quella che può essere l'entusiasmo può essere euforia può essere un sentirsi pieni di energia come la rabbia anche la rabbia perché rogers è un modo attraverso cui si rivela il tentare di cercare la nostra soddisfazione personale per cui per car rogers nessuna emozione è di per sé dannosa ma solo se l'essere umano rimane ben radicato e cosciente dei suoi veri bisogni cioè per car rogers quando le emozioni svolgono questo ruolo che avete capito che è un ruolo fondamentalmente costruttivo non è un ruolo negativo ecco che allora queste nostre emozioni ci mettono nelle condizioni di andare verso se però l'emozione è scollegata dalla coscienza di che cosa veramente quello stato mi vuole raccontare cioè perché c'è questa rabbia perché c'è questa eforia perché c'è questa eccitazione cioè a che cosa a che cosa la leggo ecco che allora può in quel caso diventare negativa perché negativa nel senso che non ci permette di andare nella giusta direzione e dunque sempre per car rogers il miglior punto di partenza per la comprensione del comportamento sta nel sistema di riferimento della persona stessa ecco perché lui privilegiava l'autodescrizione e per cui privilegiava fondamentalmente l'ascolto perché l'ascolto perché nell'ascolto la persona si rivela la persona si racconta la persona ha la possibilità mentre si racconta di chiarirsi a se stessa per cui ha addirittura la possibilità mentre ripeto si racconta di capire che cosa gli sta succedendo dentro di sé ma e qui entriamo in uno dei punti che davvero poi se ci pensate è di una realtà evidente che il terapeuta dovrebbe essere sinceramente interessato a comprendere che cosa la persona gli porta sinceramente non formalmente non tecnicamente ed ecco qui l'importanza del coinvolgimento non emotivo ma coinvolgimento umano perché questo permette di stabilire il clima di calore e di fiducia attraverso cui l'altro è più facilitato ad aprirsi alla comunicazione sempre più profonda e rivelatrice e come entrare sempre di più in profondità cioè più tra due persone si instaura questo tipo di relazione più la persona è portata a rivelarsi a manifestarsi e più la persona si rivela si manifesta più fa le proprie pulizie di Pasqua per cui mette in ordine dentro di sé e più ovviamente il terapeuta riesce a comprendere che cosa realmente c'è all'interno di quella stanza e allora tutto come vedete incomincia a girare in una determinata direzione ecco che allora è importante capire che il pensiero di Rogers ha per davvero cambiato il modo di approcciarsi della terapia no? E un altro principio diciamo fondamentale è che la maggior parte no? dei comportamenti umani sono per Carl Rogers determinati da esperienze o necessità che non sono mai stati simbolizzati questa è una cosa molto interessante di Carl Rogers cioè che cosa vuol dire? vuol dire che non c'è dentro la persona la capacità di dare un nome a quello che vive qui per simbolizzare vuol dire che cosa? che io riesco a capire che se mi vado sempre a trovare in certe situazioni è perché dentro di me c'è uno schema c'è un condizionamento c'è un imprinting che mi porta sempre a trovarmi là a trovarmi sempre in quel determinato in una relazione patologica in una relazione disfunzionale in una situazione di inferiorità perché è importante questo? perché perché Carl Rogers quando una persona viene aiutata a dare un nome a simbolizzare perché viene aiutata a riconoscere qual è lo schema qual è il condizionamento originario da dove è andato a pescare quel determinato modo di interpretare o di o di vivere la realtà ecco che ne ha in quel momento la possibilità di intervenire perché questa capacità è la capacità che uno ha a dire ma pensa un po' mi sto comportando come mio padre mi sto comportando come mia madre mi sto facendo condizionare dalle frasi che mia nonna ha detto mia mamma dalla rigidità che mio nonno aveva con mio papà e allora si incomincia proprio ad allargare la cornice della consapevolezza ma anche la cornice cognitiva cioè quelle informazioni che danno la possibilità poi di ragionare in modo diverso di porsi in modo diverso perché se io ti do dei dati diversi tu puoi affrontare quel problema da un punto di vista diverso ma se i dati sono sempre quelli o non mi vengono dati o ignoro la presenza di alcune formule come farò risolvere se la formula giusta non ce l'ho diciamo che la consapevolezza è come dare delle formule quando una persona diventa consapevole in qualche modo è come si acquisisse delle nuove formule dei nuovi algoritmi con cui poter gestire e affrontare il suo mondo interno e conseguentemente la sua crescita capite quanto è importante questo principio di Carl Rogers guardate che è molto importante questo allora è così che le persone arrivano a dire ma non posso credere di aver potuto fare una cosa simile per anni no o dicono ma ero proprio fuori di me ma come ho fatto a comportarmi in questo modo perché quando una persona non riconosce il significato di quello che compie e del perché lo compie non potrà mai fondamentalmente modificarlo ecco che allora il cattivo adattamento psicologico che esiste perché spesso noi ci comportiamo in modo disfunzionale no è il negare la consapevolezza di quelle significative esperienze che proprio perché non simbolizzate ok e noi gli abbiamo dato una forma e non potranno mai essere elaborate ecco perché il non prestare ascolta ai nostri bisogni è veramente un danno che facciamo a noi stessi e di conseguenza agli altri perché quando noi non ascoltiamo davvero i nostri veri bisogni e creiamo dentro di noi uno stato di malessere è come se noi praticamente ci estragniamo dalla nostra vera natura e questa incongruenza interna affiorerà come una tensione non meglio identificata che può essere un'egofogia mangiarsi le unghie che può essere il cibo mangiare troppo che può essere la rigidità mentale che poi può essere qualsiasi cosa allora l'adattamento la capacità che noi abbiamo di andare avanti di crescere si forma si misura nel momento in cui noi siamo capaci fondamentalmente mi pare che questo concetto sia abbastanza chiaro di aver assimilato che relazione c'è tra il nostro comportamento e il nostro vissuto esperienziale cioè di creare dentro di noi quella comprensione interna che ci dà poi la possibilità di muoverci in modo completamente diverso questo diciamo un po' il il punto principale di tutte le terapie perché poi in realtà questa cosa che Carl Rogers ha formulato non è solo nella visione di Carl Rogers ma ad esempio anche nella Gestalt c'è questa visione di Fritz Pir o anche in Virginia Satir questo poi rientrerà in tantissimi altri autori da questo punto di vista allora è importantissimo che la persona che va in terapia possa sentirsi psicologicamente sicura cioè di potersi esprimere all'interno di uno spazio dove tutto quello che verrà espresso e comunicato non verrà criticato non verrà deriso non verrà incompreso non verrà giudicato perché il sentirsi sicuri nell'esprimere se stessi che poi nasce la sicurezza in questo caso nasce proprio dalla fiducia che si staura no? per cui è la conseguenza in questo caso la sicurezza della fiducia più mi fido di una persona più mi sento sicuro di una persona più non mi fido di una persona più ovviamente mi sento insicura è fondamentale perché questo vuol dire questo questo campo di sicurezza vuol dire andare a ricomporre la dicotomia interna cioè vuol dire andare a per usare la metafora dell'orchestra andare a rimettere i vari orchestrali in accordo e in armonia tra di loro per cui vuol dire ridare questa grande possibilità e lì poi che nasce la pace la serenità la tranquillità e lì che nasce proprio questo senso meraviglioso di star bene dentro di sé ed è per quello che quando una persona incomincia paradossalmente a accettarsi ecco che può cambiare questa frase di car rogers che diceva esattamente se non sbaglio esiste un curioso paradosso quando mi accetto così come sono allora posso cambiare e questo vale anche per gli altri è proprio legato al concetto che vi stavo dicendo prima il risultato di una vera accettazione e di un'assimilazione delle esperienze che sono state negate o rimosse è proprio rappresentato dal fatto che ognuno di noi può diventare più comprensivi ma attenzione non solo con se stesso ma anche con il prossimo perché se io riesco a comprendere meglio la storia di mio padre o di mia madre il giudizio viene a meno perché dalla comprensione nasce ecco perché allora riesco a dare un significato positivo a un'esperienza negativa cioè mi rendo conto che quell'azione negativa in sé che mi ha fatto soffrire se la vado a mettere all'interno di questa consapevolezza assume tutto un altro significato non si nega la ferita ma si dà un altro significato al perché l'altro mi ha ferito e allora il fatto che noi riusciamo a fare questo con noi stessi ci porta in realtà spontaneamente non è che uno deve fare dei corsi per questo spontaneamente ci porta a comprendere meglio la realtà dell'altro e per cui a porsi nei confronti dell'altro in termini più positivi mamma mia che bei concetti che abbiamo detto in questa puntata sono uno più bello dell'altro se ci pensate un attimo ecco che allora mentre noi facciamo un cammino di crescita e mentre noi percepiamo e accettiamo la struttura di quello che c'è dentro di noi ecco che allora incominciamo a rivedere e per cui a rimettere ordine dentro di noi ed ecco che l'accettazione che non è subire attenzione citazione non è nel senso di subire ma se avete compreso di accogliere comprendere ci porta ad abbandonare i rigidi sistemi di valori acquisiti fino a quel momento per entrare con fiducia in quel processo di continua assimilazione ed ecco qui volersi bene e di adeguamento delle esperienze per cui le nostre esperienze vengono vissute in maniera diversa vengono percepite in maniera diversa e dunque questo mette in moto un funzionamento più adeguato più elastico più corretto nei confronti della vita abbiamo parlato fondamentalmente in questa puntata degli assunti alcuni non tutti ma i principali assunti di quali sono per car rogers i fondamenti della terapia centrata sul cliente per cui il comprendere non attraverso una categoria diagnostica come veniva fatto sino a quel momento là fino a che è arrivato car rogers ma comprendere entrando in punta di piedi con questo grande rispetto con questo grande desiderio di conoscenza di sentire quello che l'altro sente di capire quello che l'altro pensa di comprendere come l'altro ha interpretato un determinato evento di aiutarlo a prendere coscienza di tutto questo di far simbolizzare per cui di aiutarlo a dare un nome al perché al per come di determinati eventi che ha raccontato durante il colloquio e tutto questo mette in moto il principio dell'attualizzazione cioè che poi è la persona stessa che da dentro lavorerà per ritrovare il suo benessere perché per car rogers l'essere umano in realtà c'è questo principio di questo equilibrio meostatico per cui di raggiungere sempre di più uno stato di appagamento di benessere che è dinamico perché poi va rinnovato costantemente perché non è statico ma di continuare insomma a lavorare per raggiungere questo stato di equilibrio beh insomma siamo davvero come vedete in viaggio direi alla grande per questa nostra trasmissione che è arrivata tra virgolette alla pensate 354esima puntata perché pensate quanto no scusate 324esima puntata per cui pensate quanto siamo andati avanti in questi anni tenendo conto che non tutte le domeniche ma abbastanza regolarmente ci siamo dati appuntamento in questa piccola radio del cuore grande che è appunto Radio Evolution una piccola radio dal cuore grande vorrei però salutarvi in questa in questa puntata con un personaggio che davvero ci ha come dire ci ha insegnato tanto voglio parlare di Ezio Bosso che come sapete ieri è morto all'età di soli 48 anni per cui davvero giovanissimo ci ha lasciato prestissimo ecco vorrei farvi sentire le sue parole le sue parole il mondo ha bisogno della musica ha bisogno di musica ma c'è perché la musica siamo noi la musica è la musica è una fortuna che condividiamo che ci è arrivata e ce la cerchiamo noi mettiamo le mani ma ci insegna la cosa più importante che esista ascoltare la la musica è una vera magia infatti sapete che non a caso i direttori hanno la bacchetta come ma sì sì Grazie. 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 Grazie.